ciao a tutti io sono lui e benvenuti nella mia vita non mi avete visto vero sono una vera e propria spia adesso ci sono e che cavolo ciao a tutti benvenuti a inizio la nuova giornata davvero super divertente in compagnia di lui e soffì ma al momento ci sono solo io e questo sapete perché? perché ho intenzione di andare a fare uno scherzetto alla nostra calciofina come vedete oggi abbiamo una valanga di palline colorate guardate qui dentro palline colorate palline colorate e sapete questo cosa significa che soffì si arrabbierà tantissimo perché ho intenzione di andare a riempire con tutte queste palline la sua mitica vasca da bagno avete capito bene al momento lei è uscita e mi aveva detto prima di uscire che quando sarebbe tornata si sarebbe fatto un bel bagno rilassante nella sua vasca da bagno così ho pensato perché non farle questa sorpresa farle trovare la vasca piena di palline così lei può fare il bagno nella sua bella vasca di palline il sogno di tutti forse no ma non ci importa un picco secco ci divertiremo sicuramente la sua reazione sarà fantastica quindi rimanete a vedere il video fino alla fine per vederla impazzine considerando che dentro ogni scatola ci sono circa 200 palline moltiplicando 200 palline per 7 scatole 1400 palline 1400 sono davvero tantissime non sarà semplice trasportarle tutte di là ma ci dobbiamo provare prendiamo il primo scatolo e andiamo di là eccomi guardate qui la vasca della nostra soffì che tra poco sarà completamente riempita di palline da notare che nella sua vasca c'è il cosilo della doccia rotto questo sapete perché probabilmente lo usava come microfono è proprio pazza ma aspettate un attimo abbiamo l'occasione di sbirciare nel bagno di sofia e vedere tutte le sue cose guardate qui tutto super ordinato cos'è questo coso? i rossettini che si avrò e si chiudono guardate qui i rossettini precisi precisi continua qui sotto guardate è pieno di roba gli elastici il peccine e qui c'è il suo spazzolino elettrico sono giovi e poi guardate il mio sgabello si è rubato anche il mio sgabello trasparente è una vera ladra si merita una vasca piena di palline colorate quindi direi di non perdere altro tempo ecco qui il primo sacco andate palline ce ne vorranno davvero tantissime con lo scatolo si è riempita solamente di un piccolo strato ecco qui altri due scatoloni tutti giù vai una mega cascata di palline e di scatole arriva un'altra cascata di colore ed ecco qui le ultime due scatole la piscina è quasi piena è una piscina volevo dire masca da bagno guardate che bella è stracolma di palline fantastica e sapete cosa ho pensato poiché la nostra Sofì si arrabbierà tantissimo non appena vedrà tutto questo ho pensato di mettere dentro la piscina anche qualche dolcetto così si divertirà a nuotare lì dentro per cercarli e trovarli e magari così si arrabbierà un po' meno ecco qui le squisitezze guardate che bontà c'è davvero di tutto non si potrà assolutamente arrabbiare Sofì va bene ho riempito una vasca di palline colpa mia lo ammetto però guardate cosa sto per mettere dentro avanti questo lì questo qua questo va lì ecco facciamo così mescoliamo tutto per bene perfetto adesso non ci rimane che aspettare Sofì che torni a casa qui eccoti ciao come va Sofì buongiorno benvenuta in un nuovo vlog oggi è davvero una giornata piena di sorprese per te non capisco perché sei così sorridente che succede? ma io sono sempre sorridente ogni giorno è una festa ogni giorno uno scherzo una sorpresa uno scherzo? in che senso? beh beh in nessun senso non pensiamo agli scherzi ma che ne diresti adesso di rilassarti e farti un bellissimo bagno caldo? sì come ti dicevo oggi ne ho propria voglia non faccio un bagno caldo da una vita che meraviglia prenderò le mie bombe da bagno le metterò in quella meravigliosa vasca e mi rilasserò non so se mettere musica rilassante o se mettere il fantadisco non lo so andiamo di là in bagno ti faccio vedere una cosa ok non mi dire mi hai già preparato la vasca vero? sapevi che mi volevo fare il bagno allora l'hai riempita di acqua calda mi hai già messo la bomba da bagno pedale di rosa e candele profumate mi hai preparato il bagno ho ragione mi hai fatto la sorpresa? beh sì più o meno hai indovinato ti ho preparato il bagno e ti ho preparato una sorpresa e quindi vai e goditi il tuo bel bagno rilassante lo sapevo che c'era sotto qualcosa vedevo che eri particolarmente sorridente grazie lui vado sono super curiosa sorpresa ma che sorpresa lui io ti odio hai rovinato i miei piani altro che bagno rilassante bagno del giullare questa me la pagherai ti ho preparato una bellissima sorpresa quando ti ricapita di fare un bel bagno in una vasca di palline sono non sono il fidanzato migliore del mondo sei virata la peggiore del mondo ma non è vero sì invece hai rovinato il mio piano altro che bagno rilassante uffa ma che ne diresti invece di farti adesso il mio bagno? ma le scarpe no come se non bastasse mi ha pure tuffato scherzo riuscito è un pessimo scherzo anche se devo ammettere che è molto divertente ragazzi annego aiuta sono qui è bellissimo è una strana sensazione quella delle palline è un po' scomoda devo dire ci sono delle cose strane cosa stai trovando? lui? sì? ci sono degli snack? cerca meglio vedi cosa trovi? non ci credo wow dovresti fare gli scherzi del genere più spesso wow aspetta ce ne sono un sacco non ci credo wow che meraviglia tutto ok? sembra che stai nuotando nell'oceano li devo trovare tutti oh sì il mio preferito Sapevo che mettere dei dolcetti mi avrebbe fatto perdonare E non è la sorpresa più bella di sempre Cacciafina? No è un bounty Ok ma non puoi mangiarli tutti insieme quelli Ti faranno male Adesso ciò vuole mangiare Vuoi anche mangiare le palline se vuoi Non credo proprio Ce ne sono degli altri? Non lo so puoi rimanere lì tutto il giorno se vuoi Sì rimango qui tutto il giorno Sai mai trovo qualcos'altro Nuoto rana Nuoto dorso Prendo le palline colorate Me butto addosso Ragazzi 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 Attenzione Arli snack Gli M&M's E il dublo No no sono cadete tutti di fuori Andranno in giro per tutta casa Passate i miei snack Palline Un'altra barretta Cosa sarà stavolta? Oh un Kinder Card E un Twix Basta basta Aspetta qua c'è qualcos'altro Ah uno snack dell'Oreo Ok basta basta Ragazzi non so più come farla smettere Aspetta aspetta Mangiare mentre si fa il bagno fa male C'è la digestione non puoi mangiare mentre fai il bagno Non sei affatto divertente Un bagno di palline merita che mentre faccio il bagno mangio altre tante palline La prossima volta ti potrei riempire tutta la piscina di Amerenzo Ci sto guardate notate qualche differenza? Io sì che queste non si possono mangiare Mentre queste sì È il mio momento voglio entrare anch'io Fammi spazio che ho capito Ma ci sono altri snack per caso? Io qui ne sento un altro Ma da dove li esci? Anch'io che trovo un altro Continuiamo a cercare Aspetta Ho le gambe qui le vedi Fammi mettere Ah tocca il tuo piede pensavo fossimo smettere E' così il tuo piede Potresti per favore non mangiarmi il piede? Ma certo guarda non ne ho proprio voglia Anzi mettilo verso il tetto Aspetta aspetta Battaglia di palline No No guarda che fanno male Ok basta basta Vattene dalla mia piscina Questa piscina l'ho creata io Quindi sono il proprietario Sì ma è il mio bagno Quindi scio scio Vai via Lasciami in pace No non vado a essere a parte Voglio rimanere anch'io qui E rilassarmi con le belle palline acqua Un altro snack I Kit Kat Aspetta forse ho trovato qualcosa Wow ma questo è gigante Aspetta prova a tirarlo fuori Sì Che schifo Ok ma avevi le scarpe dentro la piscina Già visto che qualcuno mi ci ha tuffato Ma adesso sai che dovremo raccogliere di nuovo tutte queste palline Non capisco perché parli al plurale Dovremo raccogliere Dovrai raccogliere Hai combinato tutto questo casino Ho combinato io ma l'ho fatto per te E' stato un gesto d'amore nei tuoi confronti Oh ma che carino Sei proprio tenero Basta non mi apprezzi Annego Luì no Stai facendo uscire fuori delle palline Aiuto Luì se togliere le palline di là Vengono tutte verso di me Non me ne importa un figo sei colmato Addio Non annegare La cosa divertente è che comunque si vede sempre il ciuffo Il ciuffo Ok ma comunque tim trote L'avventura scherzo di oggi si conclude qua Non riesco più di uscire Dammi la mano Devo dire che inizialmente me l'ero presa Perché volevo fare un semplice bagno rilassante Però alla fine l'ho apprezzato E' stato super divertente E poi con questi snack È stato il bagno più dolce di sempre Quindi adesso cliccate qui davanti a Sofì Per vedervi il video di ieri Mentre cliccate davanti lui Per ascoltare una delle nostre nuove canzoni Noi vi mandiamo un bacione al braccio Ci vediamo domani con l'unissima avventura Ciao